Ciao ragazzi, qui per Normalcomics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo già al terzo box di Adrenalin 2022 Titans, la nuova collezione. Ragazzi alcuni di voi ce l'hanno chissi, ma queste vanno a sostituire quelle di settembre? No, ovviamente no. È un set di aggiornamento che Panini, che quest'anno si è svegliata con una testa un po' più... Buttiamo collezioni fuori. Frizzante. Una testa molto frizzante. Ha pensato dai facciamo una collezione di aggiornamento, quindi sicuramente poi a settembre ci sarà il set Adrenalin in base, quello lì, che ormai spacchettiamo qui su YouTube da tantissimi anni e che voi apprezzate molto. Questo è il terzo box, quindi siamo già un sacco avanti. Vogliamo finire questa raccolta, quindi c'è bisogno assolutamente di spacchettare. Ragazzi alcuni di voi ci hanno detto che l'hanno terminata addirittura con tre box questa raccolta. Magari abbiamo anche noi fortuna da riuscire a considerare. Sì, speriamo, speriamo ragazzi. Siamo ad ottimo punto. Inoltre il gioco online è molto interessante perché è stata aggiornata l'app base di Adrenalin X, ed è andato a vedere ragazzi, è veramente figa, e hanno messo anche il binder a fianco di Titans, e io sono veramente soddisfatto. Quante bussine ci andiamo ad aprire? Io penso che faremo o nove o dodici, però vediamo un attimo. Io ne scelgo per ora tre, poi vediamo. Però potremmo anche andare su due parti sole per questo box. Ragazzi, il problema sostanziale è che i panini facendo uscire questa raccolta scorra pazzesca, cioè, l'Adrenalin si sentirà un po' di mancanza di sostanza, anche a livello proprio, cioè, sentiremo che queste card, ovviamente l'Adrenalin le ha ordinati nel sito a... Però chissà, magari i panini, vedendo il grande successo, potrebbe dire, ma perché non fare una card invincibile parallel? Sarebbe veramente incredibile. Magari card invincibile limitata. Perché no? Vedremo ragazzi, parto subito con lo spacchettamento! Mancate subito, cuore buzziati di Titans, va bene. Raga, bel video. Ok, una su venticinque, se ricordo bene. Cuore pulsante di Titans, una su venticinque posine, ed è pure mancante, ragazzi. Quindi la mettiamo subito nel raccoglitore. Ragazzi, che culo, veramente bellissimo. Che bellezza, il primo pacchetto, la fortuna di beccarlo. Allora, qui abbiamo l'attacco stellare, questa è la 209, quindi proprio a fianco, perfetta. Molto bene. Ragazzi, comunque ci manca una Titans e l'altra invincibile, che è quella diamante. Siamo andando molto bene, anche a livello di zero doppie su queste card. Molto bene, molto bene. Poi, va bene, chiudo il pacchetto con squadra dell'11 dell'Atalanta, Martini Squarta e Milenkovic e 11 del Milan. Bene così. Bel pacchetto. Difficile fare di meglio. Direi quasi impossibile, anche perché da un box tipicamente si trova o un invincibile, o una Titans. Difficilmente se ne trovano entrambi. Allora, abbiamo layout, top impact, poi chiama il VAR, di cui ormai ne abbiamo trovate veramente tante. Poi, muro d'acciaio, attacco stellare. Bella. Maglia del Venezia, ce l'abbiamo? Sì, però molto bella. Bella, sì. E cure pulsante, abbiamo trovato tutti... Sì, tutte... Eh, non è il Titans, però ragazzi, è pur sempre un cuore pulsante. Not bad. Questa collezione si caratterizza per avere queste card e sembrano tutte rare. È una roba bellissima. Vero, vero, perché hanno tutte questo... Questo lografia, sì. ...sbrillucicoso. Molto particolare. Vado io? Sì. Che dite? Vai, vediamolo. Certo, Score è una collezione che è molto più divertente da aprire. Eh, vabbè, ragazzi. Un po' di tutto portiamo. VidBare, Top Impact, un po' di Chiamelvar, la seconda pelle della Fiorentina, che non so se abbiamo, l'undici del Cagliari, che credo manchi, ragazzi, molto probabilmente. Lo dico subito, però. L'abbiamo? L'abbiamo, annaccia. Poi Patrick Cutrone e Pinamonti, che compongono l'attacco stellare dell'Empoli, e per chiudere il cuore pulsante dello Spezia. Non male. Niente, contro l'Empoli non canti, diciamo che il vento è un po' un bordello, chiaramente. Noi abbiamo una checklist, quindi poi faremo un video di aggiornamento serio della collezione. tocca a me. Vado. Sì. Ok, anche il feeling, chiaramente, che è carta e non plastica. Sicuramente è diverso da score, ma ragazzi, sono due mondi diversi, cioè uno è una collezione veramente di basso costo, e quindi anche materiali inferiori, un'altra è una roba assurda. Comunque, con le Top Impact. Ah, no, Top Impact è rocchio, ok, ok. Oh, quello pulsante. Bello, sto quello pulsante dell'Inter. Molto bene, infatti non ha tu uno di controllo. Pure un muro d'acciaio, con top di profilo. Ficaio Tomori e Kier, questa pure è da controllare. Cule palì e di tacchio, questa sicuramente è doppia. Però queste due coppie di Inter e Minam me le controllo subito. Controllate. Vediamo un po' cosa trovo io nel mio secondo pacchetto. Il cuore pulsante era doppio e anche i muri d'acciaio, ragazzi. È una raccolta che effettivamente, sì, con due e tre box, già ria a completarla. Ancora una rookie, poi Ferrari Top Impact. Poi, scudetto della Samp, molto bello. Però mi sa, sì, lo abbiamo, lo abbiamo. Poi, Maglia del Bologno. Secondo me del Bologno ho dei dubbi. Ho dei seri dubbi su questa carta. Bella. Se vuoi te la controllo, ma bro, non lo so. E invece manca Zanioro e Abram, attacco stellare. Mi sa che l'abbiamo trovato, perché mi ricordo che nella scorsa avvertura non avevamo nessuna carta della Roma. Sì, bene, l'abbiamo completato in pratica. Mancano solo tutte la Roma. E poi Gonzales e Piontek, attacco stellare della Fiorentina, che abbiamo, sì, sì, probabilmente triplone. Vado io? Vado io. Vediamo qui che esce. Perché c'è un pacchetto di tutti voi? Se lo sono partito io? Eh, ne hai presi quattro, uno dei tre. Sì, è imbrogliato, eh. È imbrogliato. Altra che, palesemente, io ne prendo un altro e anche voi ne avrete altri due. Va bene. Allora, Cragno Top Impact, che non è male. Poi abbiamo Naruki, che è Josip Brecalo. Poi abbiamo l'undici dell'Inter, ragazzi. Molto bello, mi sa che lo abbiamo. Uh, attacco stellare del Venezia, ragazzi. Io a me credo che io non se ne erano o manchino. No, no, ne abbiamo. Ne abbiamo davvero. E noi ce ne abbiamo, bro. Sono sorpreso. Poi Maglia dell'Inter. Eh, dell'Inter. Scusatemi, tifosi, scusate. Del Milan, del Milan, gli altri cugini. Ho sbagliato, ragazzi. E poi l'undici è il Sassuolo. E manca. No, no, lui manca. Ah, mannaggia. La squadra è il Sassuolo. Va bene. Tanta roba. Ho appena fatto un'offesa di quelle gravissime. No, tocca a Dane. Eh, no. Te Ale, sì. Ciao. Gatano, sono un pacchetto. Non tocca a te, sì. Sì, tocca a Te Ale, vai. Ok. Si sta confondendo un po' tutto, ragazzi. Ma perché avevi iniziato tu, poi sono andata io e ho andato Simone. Vabbè, comunque questo è il mio terzo pacchetto, quindi non fa nulla. Ci siamo un po' invertiti. Ma sì, ma sì. Allora, ancora Ruki. Poi, nuova firma. Cabral. Ok. Poi, scudetto della Salernitana. Poi se che manca. Secondo me no. Però dopo dovremmo controllare. Non si deve aver mai visto. Poi, Luiz Alberto e Milinkovic Savic, cuore pulsante della Lazio. Doppi. Poi, Rui Patricio e Gianluca Mancini, muro d'acciaio della Roma. Manca. Ah, peccato. E poi, Sirigo e Criscito, muro d'acciaio del Genoa. Doppia. Andiamo a trovare, non lo squetto della Sirigo. Eh, quello che volevo dire, che manca, mi sa. Dove sta solo? No, prima del sta solo. Manca? Prima della Samp manca, ragazzi. Tanta roba, ragazzi. Bello, sì. Vado io. Con il tuo pacchetto, anche se secondo me stiamo aprendo i pacchetti del previsto. Dovrebbero essere 12 questi per la seconda parte, ragazzi. Se no, non ho niente a portarvi nella seconda parte, sarebbe molto triste. Ok, attenzione, sono rovesciati. Abbiamo Valentin Mihaila. Nuova firma. Davvero, non l'ho mai in questo giocatore. Adesso potrebbe mancare. Sì, chiama il VAR. Sono 13 pacchetti. Oh, addirittura. Quindi tu devi averte un pacchetto in meno. Oh, addirittura. È come un po' strano. 11 dell'Empoli, ragazzi. Spezzi abbiamo il muro d'acciaio, cuore pulsante del Torino e invece il muro d'acciaio del Geno lo abbiamo. Io direi, ragazzi, che dato che ci abbiamo anche da spacchettare questo boxettino, ci faremo la seconda parte con 12 pacchetti. Però ora ci avremo un ultimo pacchettino, così devo tenerci qualche altro pacchetto, poi anche per questo box. Va bene, va bene. Va bene, vai. Vado con il mio che dovrei restare con il mio, no? Sì. Sì, dai. Così dovremmo essere fai. Allora, Ilicic. Bella, la tua macchina non si trovano spesso. Chiama il VAR, poi abbiamo Jasi e Verde, Silvestri Nuitink, Fabiana Rubis e Zienischi e la maglietta. Manca anche quella. Ma se in Ilicona siamo un po' scarsi, eh. Mancavano sia Scudetto che Maya che Lineup. Mamma mia. Siamo stati sfigati con la Sardinitana. Lineup c'era. Adesso abbiamo però anche questa. Olè, tutti e tre li abbiamo, ragazzi. Bella roba. Tutto sommato è andata bene. Sì, sì, sì. Lo trovo pure quelli del Napoli, che non si sa mai magari il Napoli. No, mi sembra che il Napoli era davvero. Tanta roba. Mancavano. Ok. Tanta roba. Sono colpito. Ok, raga. Direi che nel prossimo video ci andiamo a fare questi altri 12 pacchetti, dovrebbero essere. Sarà ovviamente anche un video con questo box di notte 5, con altri ulteriori pacchetti. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi se ancora l'hai fatto. Beh, da parliamo al comics è tutto. E c'è il prossimo video. Bella.